Siamo lieti di presentarvi e mostrarvi la sede centrale del liceo scientifico San Islao Cannizzaro. Il nostro ingresso si presenta così, dotato di distributori automatici per la ricreazione e pausa pranzo degli studenti. Procedendo per il corridoio si giunge ad un ampio alastrico solare esterno in cui gli studenti possono passare le ricreazioni all'aria aperta. Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva multimediale, di webcam e di microfono per la didattica digitale integrata e per poter svolgere al meglio le lezioni. Nella sede possiamo trovare un ben fornito laboratorio di informatica che vanta un computera studente e che affaccia sul colosseo quadrato, dove si possono ottenere lezioni interattive e dinamiche. Inoltre è anche dotato di una strampante 3D. Vantiamo anche di un ottimo laboratorio di chimica e fisica che è stato rinnovato totalmente nel 2019, nel quale possiamo svolgere qualsiasi tipo di esperimento. Questa è invece la presidenza. La scuola inoltre vanta di una struttura moderna e ben fornita, dove gli studenti possono svolgere le ore di educazione fisica con attrezzi moderni e che viene utilizzata poi nel pomeriggio anche dall'Eurgym. A seguito della pandemia, la scuola si è immediatamente organizzata con dispositivi di igienizzazione per tutti i corridoi, per mantenere appunto gli studenti in sicurezza.